Il 2017 sarà l'anno decisivo per il porto di Pescara e il suo futuro. Si dovrà capire infatti se il capoluogo adriatico attraverso il suo scalo marittimo potrà avere ancora un ruolo di rilievo nei traffici nazionali ed internazionali. Da questo punto di vista sono preoccupati gli operatori commerciali che ritengono fondamentale per la struttura il prossimo anno anche alla luce di quanto accaduto in questo 2016 con l'insabbiamento dei fondali dello scorso luglio che ha portato all'interruzione pressoché totale di ogni attività all'interno dello scalo commerciale. Difficoltà che ancora oggi perdurano a causa del mancato inizio del mini dragaggio d'urgenza che consentirebbe almeno alla nave cisterna Galatea di tornare in porto per non parlare poi della fine del collegamento turistico assicurato dalla SNAV fra Pescara e la Croazia. È possibile ipotizzare per l'estate 2017 un ritorno anche dei turisti? Io credo che non ci siano possibilità perché il dragaggio che è previsto per far tornare perlomeno, come dicevo prima, la cisterna prevede un quantitativo piccolissimo che permetterà appunto, se tutto va bene, l'ingresso della cisterna in sicurezza ma sempre con un pescaggio molto ridotto, non superiore ai tre metri. Quello che chiedono gli operatori, le compagnie di navigazione per quanto riguarda il trasporto passeggeri e nello specifico la SNAV che ha assicurato in tutti questi anni i collegamenti da Pescara e della Croazia sono fondali di almeno cinque metri. Per quanto potete ancora andare avanti così? Noi siamo proprio con l'acqua alla gola, insomma, come si dice. Adesso purtroppo tanti dipendenti sono già stati licenziati, i mezzi meccanici delle imprese portuali sono stati messi in vendita o rottamati. Ripeto, l'unica speranza è che effettivamente nel 2017 si dia un'accelerata definitiva a tutte le opere sia di apertura della diga, di costruzione della barriera soffolta e in modo particolare del dragaggio, di un dragaggio che spero che se ne faccia più di uno e di inizio dei lavori del piano regolatore portuale con l'apertura del nuovo canale.